Non lo so questo, quello che ha detto Max è la realtà dei fatti, ci sono stati grandi giocatori che sono stati grandi allenatori e grandissimi giocatori che hanno allenato magari per un anno, per due e poi hanno smesso perché hanno capito che quello non era il proprio mestiere. Bisognerà vedere Clarence al lavoro in questo senso, sicuramente la personalità non gli manca, le competenze non gli mancano perché ha giocato a calcio a grandi livelli fino all'altro ieri. Io ho un contratto con il Mila fino a giugno di quest'anno e fino a giugno sarò qua, poi farò una chiacchierata con la società e poi vedremo. Non credo sia la cosa più importante, insomma, però in questo momento la cosa più importante sarà la gara di domani, di domani sera, perché come ho detto prima, insomma, questa è una strada che in questo momento può essere quella da seguire, insomma, per tornare a giocare in Europa, perché il prossimo anno il Mila sia in Europa, ce ne sarebbe un'altra, ma mi sembra un po' più difficile, perché gli avversari sono forti.